e piloti di aereo. Sono questi i bersagli preferiti da chi a Bari sembra divertirsi ad utilizzare i puntatori laser, aggeggi pericolosissimi che nel capologo pugliese stanno ormai diventando un problema di ordine pubblico. Tutto inizia il 12 dicembre scorso, quando al San Nicola qualcuno dalla curva prende di mira il calciatore brasiliano Diego, che poi sbaglierà un rigore. Ancora qualche giorno e il raggio verde inizia pericolosamente a bersagliare gli aerei in arrivo e in partenza dall'aeroporto Carol Voitila. Dal 30 dicembre i responsabili dell'ENAV hanno contato una decina di episodi, l'ultimo ieri. Pur essendo episodi che non hanno compromesso la sicurezza delle operazioni, sono avvenuti in fasi che sono delicate, appunto quelle di atterraggio e di decollo, per cui si tratta di scongiurare assolutamente queste azioni, perché arrecano fastidio ai piloti. Nell'affrontare il fenomeno, la polizia del capologo pugliese si è scontrata con un evidente vuoto normativo che tuttavia non le ha impedito di effettuare un primo importante sequestro. Speriamo di far capire alla gente la pericolosità di questi strumenti. Comunque ci aiutano le circolari ministeriali e soprattutto la razionalità, perché dove un fenomeno comunque crea problematiche alla salute pubblica, c'è la norma che ci consente comunque di operare. 3.000 circa i pezzi sequestrati, alcuni provengono dalle bancarelle dei negozi cinesi, altri invece come questi erano in possesso di tifosi baresi beccati allo stadio sabato sera durante Bari Inter e di ragazzini sorpresi nei pressi dell'aeroporto. Sono pericolosissimi e possono essere venduti solo da negozi specializzati e per determinate finalità di natura professionale. È per colpa di uno di questi aggeggi, probabilmente, che un 37enne colpito ieri sul lungomare ha riportato un fototrauma della retina. Il feritore, oltre ad una pesante multa, rischia una denuncia per lesioni. Ha tentato la sicurezza dei trasporti, invece, il reato per chi punta il laser contro gli aerei. Piero Ancona, Sky TG24, Bari.